Dobbiamo oggettivamente e chiaramente fare un pochino di ordine, ne va della situazione del campionato. Milan Udinese, anticipo serale dell'undicesima giornata di campionato, che va a prendere delle strade, delle stradine parallele, e posso permettermi di dire un po' impensabili dal mio punto di vista, perché sì, perché sì, mai mi sarei immaginato di vedere una partita prendere quelle pieghe lì, chiamiamole pieghe, quelle pieghe lì, ma partiamo dall'inizio, e all'inizio vi dico che, ma che cazzo, e all'inizio vi dico che vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Arriviamo a 495.000 iscritti e domani, indovinate un pochino, vi porto anche il day after con le pagelle del Milan. Allora, andiamo un attimo per gradi, perché il Milan aveva qualche assenza, aveva qualche assenza, diverse in realtà, per quanto riguarda la porta resta infortunato Sportiello, ma non è un problema, per quanto riguarda la difesa restano infortunati Pellegrino, per un'infortunio nella gamba, Kier, infortunato anche lui, Kalulu per un'infortunio muscolare, Caldara per un'infortunio nella caviglia, il Milan non ha più difensori, allora è costretta comunque a far giocare quelli che ha, e quindi mette Florenzi adattato a sinistra, Calabria che gioca a destra, e poi per fortuna a due ci arriva, I due sono Ciao e Tomori, e alla fine della fiera, per quanto si possa dire, la difesa a 4 stava funzionando. Poi ci sono altre assenze, le altre assenze quali sono? Manca Pulisic in avanti, manca Ciuqueze, quindi manca sia Pulisic che Ciuqueze, e manca Benazera a centrocampo. A questo punto c'è una cosa che io non riesco a capire, come ha giocato oggi il Milan? Qual era oggi, domanda, il sistema di gioco del Milan? Leao che partiva più basso? Perché io la cosa che sottolineo su Milano Udinese, e secondo me la più importante, è che oggi il Milan ha fatto tanta confusione. Cioè sulla carta l'idea era quella di avere un Leao esterno di centrocampo, che per me non ha un cazzo di senso, specie se tu basso a sinistra non hai Teo Hernandez, perché diciamo che sostanzialmente scegli di... scegli, vabbè, devi mettere Florenzi, devi adattarci Florenzi e ce lo adatti, ma tu su una fascia metti Florenzi basso e Leao esterno a centrocampo, cioè un attaccante a centrocampo e un centrocampista basso. Per me già di per sé questo non ha senso, e quando qualcuno sarà pronto a dirmi eh vabbè Sik, ma il problema quando non fai gol, cioè il problema è che non fai gol, non che ne prendi tanti, no, secondo me il problema alla base è che quando tu non fai gol, io questa cosa la dico dai tempi di Francesco, e chi segue il calcio, lo segue assitualmente, lo segue giornalmente, lo sa, se tu non fai gol, non fai gol non perché non hai abbastanza attaccanti, non fai gol perché forse hai sbagliato le proporzioni della squadra. Cioè avere un attaccante in più e un centrocampista in meno, avere un trequartista rispetto che un mediano, non significa avere più possibilità di fare gol. Tu devi creare comunque un sistema di gioco, un modulo, devi metterlo in campo, devi sdraiarlo in campo, che riesca a far arrivare la palla agli attaccanti per realizzare reti. E se tu non riesci a fare questo, io lo dico, lo dicevo da Di Francesco, perché ricordo che Di Francesco levava spesso il trequartista per mettere il mediano, o levava la punta per mettere il trequartista. E io dicevo, quando vincevamo, no? E io dicevo, ragazzi è una cazzata. Perché? Perché secondo lui, magari il mediano aiuta più di un trequartista in fase difensiva. Sì, ma ti schiacci, non c'è nessuno che tiene su palla e quindi prendi gol. Al contrario, lui levava il mediano per mettere un trequartista, quando stavamo sotto. E io dicevo, ragazzi, ma così facendo, se tu levi un mediano, quindi lasci due mezzali e c'è due trequartisti in campo, chi cazzo la costruisce l'azione da gol? E questa era una cosa che non mi piaceva. Tatticamente questa è una scelta sbagliata, che poi sul campo paghi. Ora, era chiaro come il Milan avrebbe potuto fare un po' di tutto, ma giocare con Jovic e Giroud insieme, quando poi però di ruolo c'hai tre centrocampisti, tre centrocampisti, un'ala, due punte, non ha senso. Non ha alcun senso, a mio avviso. L'aver fatto giocare insieme Jovic e Giroud, per l'assenza di Chukueze e di Pulisic. Poteva pagare? Se tu però poi mi andavi a mettere due esterni di centrocampo, vi faccio un esempio. Un Milan con Calabria a destra, con a sinistra Teo Hernandez, con esterno a sinistra Leao e esterno a destra qualcuno che l'esterno a destra lo sapesse fare, magari anche un po' Bega, che magari in passato l'ha fatto, magari, non lo so, inventatevelo voi, io l'avrei compreso di buon grado. Avrei detto, ma sai che c'è? Non è una scelta poi così sbagliata. L'avrei compresa pienamente. Non la comprendo quando vai a mettere i giocatori un po' alla cazzo di cane, perché poi Musa, largo, ma tentava disperatamente di tanto in tanto di accentrarsi, ma era pur sempre Musa, largo. Clunic e Reinders centrali, sì, ma comunque ti mancava proprio alla base il fatto di avere un programma in testa, un'idea di gioco che tu non stavi dimostrando di avere. E per me è questo che il Milan sbaglia in partenza e sbaglia i posizionamenti. Vi dico quello che avrei fatto io, poi passiamo ovviamente a parlare anche della partita in sé, perché è la partita il succo di questo video. Però, insomma, quello che avrei fatto io molto semplicemente semplicemente era giocare con il solito 4-2-3-1, quindi con Forijovic, dentro Leao da una parte, Okafor dall'altra, Luca Romero trequartista magari, e Giroud punta, o Adli trequartista, perché lo può fare, e Giroud punta. Questo era un sistema che secondo me potevi adottare, o anche banalmente un po' mega trequartista, c'era un sistema che potevi adottare per compensare il fatto che ti mancassero sia Cukueze che Pulisic. Però, regà, stringi stringi, alla fine, al Milan, rispetto alle altre partite, la mancanza più grande era quella di Pulisic, perché Cukueze è il sostituto di Pulisic. Sì, è chiaro che se mancano tutte e due è un problema, ma tanto lì puoi far giocare Okafor, puoi far giocare Luca Romero, non c'era bisogno di cambiare sistema di gioco, di reinventare le due punte, una cosa lontanissima, da quello che il Milan, insomma, ci ha abituato e da quello che il Milan è. E questa cosa, vi dico la verità, mi ha sorpreso. È un primo tempo in cui l'Udinese non calcia praticamente ma in porta, in cui l'Udinese gioca di rimessa, ma è un Udinese compatto, è un Udinese che riesce a gestire bene il Milan, che riesce a bloccarlo, che fa creare poco o nulla. Ecco questo, fa creare davvero poco o nulla al Milan ed è un Udinese intelligente, messo in campo tatticamente in modo molto molto intelligente. Non dimenticatevi, tra le altre cose, che l'Udinese è tornato a Cioffi, che quindi, vabbè, fa i soliti cambi, perché Cioffi fa dei cambi come se si dovesse cambiare le mutanze, ogni tanto l'Udinese prende e cambia, prende e cambia, però nel primo tempo, ragazzi, il Milan è inesistente e deve darsi una svegliata, deve darsi una svegliata. Perché il Milan fa fatica? Fa fatica perché, come vi ho già detto, se tu metti in campo una squadra con il culo, è normale che fai una gran fatica. Infatti nel primo tempo, mi ricordo un'occasione per parte, una mi pare di Florenzi, l'altra di Samarzic, ma in realtà poi ce n'è un'altra sempre dell'Udinese per Eira, sempre proprio nei primi minuti, appena era iniziata già l'Udinese calciava in porta, in porta, alto, ma in porta, insomma, verso la porta, quindi l'Udinese le sue occasioni se le crea, l'Udinese le sue occasioni se le crea e soprattutto la cosa che secondo me stende il Milan, oltre al calcio di rigore di cui adesso parliamo e vi dico il mio punto di vista, la cosa che stende il Milan è il fatto che i rossoneri vadano avanti affolate. Cioè, quando vedono un piccolo spiraglio, ci provano, si gettano in avanti, però per il resto la difficoltà della squadra di Pioli è proprio quella di mettersi in piedi a cercare di creare un qualcosa e l'Udinese di contro si difende molto 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 bene, molto bene, sa quello che fa, sa come muoversi, ancora nel secondo tempo concede il palino del gioco, sebbene in realtà poi nel secondo tempo diventi una partita molto più aperta, cioè l'Udinese prende coraggio e inizia a crearsi anche delle occasioni, c'è un'occasione, tra l'altro c'è una zero in cui Maignan fa un miracolo vero e proprio ma importantissimo su Saces che lì avrebbe probabilmente chiuso la partita anzitempo, insomma l'Udinese si fa vedere bene nel secondo tempo nonostante il vantaggio perché all'ora di gioco arriva il vantaggio e nonostante in generale sia l'Udinese sia San Siro, vabbè è vero che l'Udinese è la bestia nella del Milan ogni volta che il Milan affronta l'Udinese ne esce scornato, però è anche vero insomma che l'Udinese è pur sempre che è pur sempre l'Udinese calcio di rigore per l'Udinese come arriva il rigore in generale arriva con Ebosele che si allarga si inserisce Adli Ebosele Adli calcio di rigore contatto contatto che c'è tra l'altro è stato anche il check viene confermato va dal dischetto per Eira che non sbaglia praticamente mai e che porta avanti con un rigore posso dire bellissimo perché perfetto proprio perfetto con Maignan spiazzato una zarudinese che pesa tantissimo nell'economia di tutta quella che poi sarà la partita e la cosa che io fossi milanista sarei incazzato farebbe ancora più incazzare è che negli ultimi tutto il recupero tutto il recupero quante occasioni si crea il Milan quante quante se ne crea c'è il miracolo di Silvestri appena inizia il recupero quello su Giroud poi c'è l'altra occasione con Florenzi poi c'è l'altra occasione con Okafor poi c'è l'altro miracolo di Silvestri quello lì sempre su Florenzi con la palla che poi finisce sopra la traversa cioè dopo la parata di Silvestri il Milan in 5 minuti crea 4 palle goal che avrebbero permesso qualora queste 4 palle goal fossero state sparpagliate tra primo e secondo tempo di farmi dire il Milan meritava di vincerla questa partita e allora la mia domanda piuttosto lecita secondo me è perché stracazzo il Milan si sveglia nel recupero e allora allora a questa domanda avviene una risposta importante i cambi entra Romero che è uno dei tre della tre quarti entra Okafor entra Adli che gioca in mezzo al campo entra Loftus Cic il Milan ricambia modulo perché se andiamo a vedere poi come il Milan finisce come il Milan chiude nel finale il Milan chiude con Reinders e Krunic che sono usciti entrambi e lì con Musa che è uscito entrato Romero si sposta avanti rimane Girupunta gioca Leao Largo e Okafor viene inserito nella batteria della tre quarti facendo uscire Jovic il Milan ripassa al 4-2-3-1 e da quel momento in poi specialmente quando arriva poi effettivamente il cambio che sancisce a tutti gli effetti il cambio di modulo perché con l'ingresso di Luca Romero e l'uscita di Musa secondo me il Milan è passato da una sorta di 4-3-3 a un 4-2-3-1 il modulo vero negli ultimi 8 minuti più recupero compreso il Milan si crea una marea di c'è anche l'altra per Di Leao tra l'altra occasione finale di Leao il Milan si crea una miriade di occasioni e c'ha tante volte la possibilità di sognare di andare a far gol di riadrizzare la partita che tra l'altro posso aggiungere una cosa io nel mio pronostico avevo detto che il Milan avrebbe vinto 2-0 facendo un gol per tempo Pioli ha sbagliato secondo me completamente la partita ha sbagliato completamente come l'ha presentata come l'ha preparata e tutto quanto e per me c'ha grande colpa nel debacle del Milan però al di là di questo io penso che questo più o meno sia il campionato del Milan cioè l'Inter corre ma l'Inter è molto più forte io ve l'ho detto già al tempo l'Inter è tanto più forte del Milan poi che il Milan delle volte abbia dei buoni momenti in cui in anella risultati positivi non siamo qui a raccontarvelo però è questo cioè oggi che io vedo che l'Inter ha 6 punti sul Milan per me è quello l'andamento un Milan che arriva in Champions perché può arrivare in Champions però l'Inter ha una rosa secondo me più competitiva poi ci si mettono anche gli infortuni poi il Milan deve giocare il Paris Saint-Germain martedì poi aggiungiamo anche che ci si metta anche Pioli lì poi subentrano cose poi l'Udinese è anche la bestia nera e allora eccoci qua fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale io vi ringrazio buona c'è la la ciao